In gioco ci sono i fondamentali che hanno tenuto in piedi per oltre 70 anni l'economia della nostra provincia. Adesso è tempo che questa grande manifestazione che vede insieme la parte sana della società civile, della nostra comunità, rivendichi il proprio protagonismo nelle scelte che riguardano noi e i nostri figli. Lavoro, salute, legalità! Aspettiamo scelte chiare, nette e inequivocabili sul futuro della zona industriale di Siracusa. Perché avere una zona industriale basata solo sulla raffinazione rischia comunque di determinare in futuro perdita di posto di lavoro. Noi pensiamo che il tavolo invece debba provare a dare una risposta più strategica e più strutturata nella direzione della transizione energetica e digitale. Cioè i giovani non oltre i 25 anni che scappano perché non c'è futuro. Chiediamo i tavoli con le istituzioni, con i governi affinché si metta mano a risolvere definitivamente questo problema.